Ma lo sai che nel 2015 c'è l'Expo a Milano? Una bella vetrina per il capoluogo lombardo. Ma l'amore... No... Scusa, ma tu canti Arisa. Io ti parlo del più grande evento dei prossimi anni e tu canti Arisa. Può scoppiare in un attimo il sole. Scusa, ma sei completamente rincoglionito. Ma l'amore... Se continui così, firmo le carte e ti faccio internare. Preferisci Malikaiane? Se è così, basta dirlo. Ma chi se ne frega di Malikaiane? Hanno ridotto moltissimo i finanziamenti. E ora non si sa se andranno avanti. Arisa è un talento naif. Ma cosa c'entra se Arisa è naif? Ti rendi conto che l'Expo è una grande occasione per esportare il Made in Italy nel mondo? Ma l'amore no... Ma Cribbio può portare nuova linfa strutturale al paese. Il pezzo è tra i più programmati in radio. Molto più di quello del sardo di amici che ha vinto il festival. Come si chiama? Valerio Scanu. No, basta! Arisa si sceglie i vestiti da sola. E non è tutto. Anche gli occhiali li ha disegnati lei. Non è cosa da poco. Lascia perdere che sono orrendi. E si vede, ma sai cosa ti dico? Ho messo in cinta le sorelle Marinetti. Ho messo in cinta le sorelle? Grazie a tutti